Io sto lavorando all'anima oscura intanto, eh! Senti! Questa è l'horra! Non so come si afferrano, no! Come si afferrano? Come si afferrano? Non so! Hai riempito col cuore! Che schifo! Che schifo! Sembra... È quello che potevi fare a Super Mario 64, ma... Oh, santo cielo! Che cos'è? Dai! Dai, dai, strappale i vestiti, fammi vedere! Chissà se si può fare un altro po' di figlio! No, aspetta, forse bisogna mettersi, bisogna mettersi su di lei! Bisogna mettersi su di lei, mi sembra giusto! Poi sono chiaramente le mani di Topolino, comunque! Non ci sono dubbi! Topolino è un maiale! Tu lo sai che c'è gente che si masturba furiosamente facendo... Guarda, 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 ecco, ecco, ecco! Hai capito cosa vuol dire essere uomo? È così che si fa, eh? Non so, so... Cambio uomo! E cambia mano, ecco! Sì, ma... Sei un po' rossa, eh! Anche le mani! Sì, ma... Non lo so, ma hai fatto quasi 600 hit! Mi dai mani! Mi dai mani! Sì, ma... A mille, a mille! Ha funzionato! Ti ha appena chiesto se volete la sua attenzione, no? Oh no, sì! Mi sono masturbato davanti a te perché non mi interessa. Stanca, eh? Eh, ma le passano bene!